Sì, è la prima volta che vengo alle Catacombe. Sì, è la prima volta che vengo alle Catacombe. È la prima volta che vengo alle Catacombe. Sono di Giuliano. Da Monaco di Baviera. Da Napoli. L'aperitivo mi piace. È napoletano doc. L'aperitivo era buonissimo. Il pagnottiello eccezionale e anche i tarani. Ma la birra artigianale, soprattutto, mi è piaciuta molto. Non so cosa mi aspetta e sono curioso di vederlo, esatto. Ma sono molto curiosa. Mi aspetto un bello spettacolo. E che concili divertimento con cultura. È stata un'impressione molto bella. La cosa bella che mi è piaciuta di più sono stati questi ragazzi, la storia che ci ha raccontato di un quartiere che vuole emergere. Questa vista è andata bene e fortunatamente abbiamo avuto una guida molto competente. È una cosa molto interessante. Non me l'aspettavo. Soprattutto poi un lavoro dietro che è notevole. È stata dall'inizio alla fine una scoperta unica. È sempre forza ragazzi. Soprattutto poi un'aspettavo. Grazie a tutti.